Ciao ragazzi, ben ritrovati, l'Inter di Football qui a cercare di creare del calcio Inter stellare per voi. Oggi, venerdì, primo episodio di giornata all'Inter che viene dal paio di vittorie consecutive di ieri e vediamo che tipo di avversario incontreremo oggi. Come al solito ragazzi vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale nel caso non l'aveste già fatto perché mi aiuta tantissimo, aiuta, sopporta il canale in una maniera che non potete immaginare e vi ringrazio in anticipo per questo. E vediamo che è il primo avversario di oggi, Catanzaro, 1929, terza divisione, siamo più o meno classifiche simili, top 3000 entrambi praticamente. Questo è Catanzaro. Marcus Trama ancora in formissima, Ciala anche lui in formissima, c'è anche Bukinan in formissima, c'è anche Quadrado in formissima che andiamo a mettere. No, non posso preferire Sanchez anche se in forma ad un Lautaro che sta bene. Direi che siamo a posto. Eh che squadra signori, qualche epico qua e lì, con Ned, Veddel Piero, Neymar, De Bruyne, Cross, tanti bustati. Bastoni, Nuno Mendes, Cekundé e Rodri. Formazione 3-6, 3-6-1 praticamente. Allora ragazzi, io le marcature sui trequartisti laterali le vado a mettere, cioè su praticamente Neymar e l'altro dovrebbe essere De Bruyne. Secondo me giocheranno un po' larghi, poi lo andremo a vedere eventualmente, ma secondo me giocheranno larghi. E ci siamo. C'è anche Raffaeleao, Foden, attenzione, qui dobbiamo un attimo capire. Raffaeleao punta. De Bruyne, Neymar, sono sempre loro. Ci siamo. Eh, Leao come punta veloce, per esempio, Devrey non riuscirebbe mai a fermarlo. Devrey non riuscirebbe mai a fermarlo. Infatti, penso che la nostra salvezza, ovviamente, è avere un Darmian che può giocare a difensore centrale e che ha una velocità pazzesca. Sarà il Catanzaro a cominciare... E tra l'altro c'è proprio la squadra Catanzaro. Sarà il Catanzaro a cominciare il... A cominciare questo match con Leao sul pallone. Leao con la maniera del Catanzaro. Fa la sua figura. Va subito in avanti. Qui, subito al recupero, Matteo Darmian, bravo a recuperare. Poi, Ciala, che vede e serve Lautaro. Poi il controllo non dei migliori. Poi l'Audi fa una giocata clamorosa e segna al terzo minuto. Manda al bar due difensori, non uno, due. E tira a giro sul secondo palo. Clamoroso il gol di Lautaro. È 1-0 Inter. È qui Marco Sturam. Mamma mia, Marco Sturam. Per l'Audi! Mamma mia, si salva il Catanzaro. Dal 2-0 nero azzurro. Chioccasinelli. Inter. Qui forse Sturam doveva sfondare la porta. C'è Michi a supporto. Poi Mkhitaryan! La gran parata di Oliver Kahn. La palla che è ancora alla Mercedes di entrambi, ma ci arriva però prima un giro del Catanzaro. Poi Lautaro, che recupero per Turam. In area per Cialanoglu, il tiro però esce debole. Non male però, non male ragazzi, quest'altro occasione dell'Inter. Ancora per l'Audi in area, è sempre scoperta qui. Indietro! Mamma mia, Rodri, salva tutto. Ma salva veramente tutto ragazzi. 1-2 perfetto con Marco Sturam che va. Servito a quadrato. Che sta ovviamente spingendo sulla destra. Dall'altro lato arriva Lautaro. Anticipato c'è Turam. Non è finita ancora l'Inter qui. Con... Con Lauti che se la va a giocare. Poi resta frizzato per un attimo. Bravo. Invece Bastoni. Qui sfortunata l'Inter in questo caso. Bravo Barella che recupera questo pallone. Servito Lauti. Che vada a Turam. Servito un passaggio un po' lento. Dall'altro lato. E c'è l'autocall. Stava arrivando Mkhitaryan. E anche prima ragazzi ci sono andato vicino all'autocall con l'intervento in combo con Oliver Kahn. Stavolta non gli andava bene. E... 2-0 Inter. Qui in questi casi ragazzi quando intervenite dovete premere direttamente per spazzare. Bravo Miki. Ricoprò questo pallone. Cercare Lautaro. Anticipato però da Bastoni. Bravo. Che bravo Pavarqui. Che va a rilanciare per Morkus Turam. Appoggia a Miki. Si fa vedere Lautaro molto bene visto e servito. Poi Lauti a cercare Mkhitaryan. Mamma mia per questa palla che è qui. Il ritardo. Barella ragazzi non volevo fare questo fallo. Volevo anticipare. Neanche il giallo. Secondo me l'ha capito anche l'arbitro. Anche Lea e l'ha capito che... Volevo solo anticipare. Arrivare su quel pallone. Tore indietro. E poi il ritardo. Darmian. Bravo Barella. Ottimo in questa fase difensiva. Ancora per Ciala. L'Inter si distende con Cialanoglu sulla sinistra. Molto a campo il turco. Può andare in aria per Lautaro che è da solo davanti al portiere. Dall'altro lato arriva Mkhitaryan che non può sbagliare. E' ventottesimo. E' 3 a 0 Inter. Difesa. Lui a 3 senza terzini. Che sta soffrendo tantissimo. Anche se ha il mediano. Diciamo che è un po' poco. C'è Carlo Lautaro. Mi sembra che era il ritardo. Poi quasi la fa rubare. Ancora Barella con un gran recupero. Ma ancora Mkhitaryan. Ragazzi che bello questo gioco a centrocampo. Marco Sturam la alza. Nencross che è troppo supportivo. L'Arivel Cane però non riesce comunque a prenderla. Quindi un calcio d'angolo. Che noi prendiamo molto volentieri. Giocare proprio a bastoni. C'è Gundogan su di lui. Gundogan la vince. Dai bare credici. Infatti ci crede. Alla fine esagera però. Mamma mia c'è la qui che non arriva sul pallone. Bravo qui Pavara in chiusura. Io ho fatto l'errore che ho. Diciamo che ho. Di cui vi ho parlato prima. Poi bisognava spazzare di prima. In ogni caso. Non c'era pericolo di. Non c'era pericolo di. Autogall. Poi Sommer. Provano ad andare direttamente da. Lauti. E questo appoggio però. Lascia desiderare. Rega. No. Ragazzi vi prego. Basta però recupera. E serve Lautaro. Qui molto scoperto il nostro avanzato. Molto scoperto il Catanzaro calcio. Palla per Turam. In area al centro. Sta arrivando amici. Che fa il 4 a 0. Contrope di al bacio. 4 a 0. Sembra di avere il totale controllo della gara. 4 a 0. Ancora. Altro errore. Con Lautaro lanciato. Che bello l'intervento di Iba Stori. Che mette il piede. Mamma mia amica che è giocata. Servito quadrato. Che guadagna al fondo. Il cross al centro. Troppo sul portiere. C'è. Turam. Provato a calciare qui. Marcus. Bastoni ha fatto un ottimo lavoro in chiusura. Ma che bravo di Marco. Senza neanche farlo rifiatare. Poi il passaggio di parla è sbagliato. 1 a 2. Perfetto. Marcus Turam. Da solo davanti al portiere. Lascia Lautaro. 46esimo. Non c'è storia in questa partita ragazzi. Che brutto sto passaggio di Lautaro per Tram. Mi aspettavo si sarebbe girato diciamo per bene. Poi bravo Barella ancora. Finisce il primo tempo a 5 a 0 Inter con un Mkhitaryan sempre al momento giusto. Qualche giocata di qualità. Zero di rimporto per il Catanzaro. Ma più che altro Mkhitaryan veramente ha seguito tutti i contropidi. E' sempre rimasto lì al momento giusto pronto a ricevere il passaggio per il tappin finale. Questo vi fa capire la grandezza dell'intelligenza di Mkhitaryan. E l'Inter ancora in scioltezza. Si fa vedere Lautaro che controlla ma non riesce a calciare. Poi Lautaro murato. Che bello anche il passaggio di Quadrato ma il movimento di Lautaro è semplicemente perfetto ragazzi. Cercare Pavare. Eh qui per un pelo. Ma Cialanoglu che intervento ragazzi. Che intervento di Agan Cialanoglu. Si fa vedere Quadrato visto è servito. E non riesce a crossare però. Ancora Quadrato. Il tacco a cercare Mkhitaryan qui. Mkhitaryan che va in scivolata ma non ho capito dove è passata la palla. Ancora Quadrato recupero. Aiutato da Cialanoglu. Di nuovo Quadrato che serve. Morkusturam. Pronto a sfondare ma stavolta Bastoni gli ha detto no. Altro errore qui. E allora Mkhitaryan che lascia correre di Marco. Molto qui. Molto lento e macchinoso nel contrasto. Nel controllo. Lautaro. Attenzione. La palla al centro e all'altro lato. C'è un Quadrato attentissimo. Anche in fase difensiva. Il turam però fa la sponda ma la sponda è sbagliata. La Ciala. Prenditi sta palla. Ovviamente vede che sbagliarsi i passaggi mi fa capire che è un gioco. Cercare Lauti ma si sa che però. Mamma mia ancora Lauti. Ricorrere questo pallone e poi Ciala. Può andare Ciala? Per Lauti in aria. Palo. E poi sulla ribattuta fa. 6 a 0 qui. Cialanoglaro ha portato un pallone incredibile. Fortunato in realtà. Sfortunato la Lautaro prima per il palo. Poi fortunato perché la palla dal palo ritorna praticamente dove deve. Ancora Quadrato con un gol nel recupero. Servito Mkhitaryan. Poi pare ad aprire per Lautaro. Per Quadrato ma sta palla andava alzata. Non possiamo darla a Turam perché è in fuorigioco. Cross al centro per Lautaro. Stava provando addirittura la scivolata. La rovesciata. Bravo Mkhitaryan a recuperare questo pallone. Per tutto il controllo qui di Turam. Peccato. Poteva essere una buona occasione. Ah il tacco di Lautaro qui Mkhitaryan non aggancia. Continua a diventare poi Barella. Un momento un attimo un po' di caos perché tanti errori. Fino a che Di Marco recupera. Ancora Mkhitaryan lento in questo caso. Molto frenetica. Stava per arrivare il primo gol ma poi il primo tiro in porta del Catanzaro che poi non è arrivato comunque. Bello questo 1-2. Ancora Lautaro lanciato. Campo pieno. Per Tur... No ragazzi. Che si è mangiato Turam. Capisco che doveva tirare al volo però. Difensore in controtempo quindi c'era praticamente tutto il tempo per organizzarsi. Peccato. Peccato. In due a fermarlo. Non passa sta palla perché Nuno Mende ci fa una gran copertura. Ancora Di Marco. Miki ancora una volta che poi se la va a riprendere. Che bello questo inserimento di Di Marco può andare. Di Marco! Ci ha provato. Non avrebbe dovuto forse però. È stata troppa la tentazione ragazzi. Tra l'altro ho cambiato anche Di Marco ragazzi. L'ho fatto meno difensivo, più offensivo. Guarda di che può andare. Salta tra l'altro secco Mkhitaryan. Mamma mia. Che roraccio. Mamma mia Leao. E poi Nedved. Due tiri in un'azione. Arrivano all'ottantatresimo per il Catanzaro. Che ci ha provato ma. Bastoni può scendere palla a piede. Poi prova a lanciare Di Marco ma. Altro. Ok fortunato nel rimpallo. Fallo di quadrato su Neymar. Che comunque lo aveva saltato secco. Si è notato. De Bruyne. Che bel gol di De Bruyne. Non ha spostato il portiere. Molto bella. La punizione. È 6 a 1. Gol del Catanzaro. Un gol splendido. Tecnicamente perfetto. Non ci scelta. Poi quadrato. Guadagna il fondo. Il cross al centro. Ci arriva Oliver Kahn. Senza troppi problemi. Mamma mia. Bastoni. Salva tutto su Lautaro. Beh che partita. Comunque ha poco da raccontare più. Saranno 30 minuti di recupero. C'è ancora tempo per qualche emozione. Ci prova con un pallone troppo. Lauti non è il controllo che speravo ma ci sta anche perché dovuta alla stanchezza. Anche qui Barella. Non c'è più tempo. È 6 a 1 Inter. Altra partita. Qui l'Inter. Partita a senso unico. Lo dice anche Caressa. Poco da aggiungere qui. Anche l'Inter vera. Saliamo a quota 1.400. Senza troppi sforzi. Aggiungiamo un'altra vittoria consecutiva. Quindi su un 5 adesso. Un ottimo risultato. Direi ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Io vi ringrazio per aver guardato. E ci vediamo alla prossima.